L'ospedale di Terni ora può bantare una delle poche sale cinematografiche ospedaliere presenti in Italia. È stata infatti inaugurata quella da otto posti dedicata ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria. Il progetto Cinema in Pediatria è stato reso possibile grazie alla max raccolta promossa dall'associazione Pagliacci, circa 32.000 euro, 23.000 dei quali sono utilizzati per allestire la stanza insonorizzata, di circa 24 metri quadrati che funge anche dall'odoteca. Le risorse restanti sono state utilizzate per acquistare attrezzature per la terapia intensiva neonatale e la radiologia, oltre che finanziare un soggiorno al mare per i bambini del centro Baobab.